Ragazzi, notizia bomba, Nvidia rilasciato sui drive open source per Linux, viva, viva, ma mica ve le dicono queste cose su Prodigy, che è sempre solo Windows, eh, quei winzozzari, grande, 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 Nvidia, e viva, e, 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 ma, co, come, co, come? No, ma, allora, ma, che, ah. Che sta succedendo? Eh, no, no, non è assolutamente come sembra, ma... Sì, ragazzi, la notizia è importante, Nvidia ha rilasciato i drive open source per Linux, ma che cosa vuol dire per Linux? Beh, vuol dire per il kernel Linux, quindi è solo un pezzo di tutto lo stack grafico, tutto il resto rimane proprietario, e vediamo il particolare di questa notizia. Foronix, che è un sito specializzato in Linux e hardware, come schede grafiche in particolare, ne dà giustamente un grande risalto a questa notizia, però mette anche i puntini sulle i e dice, attenzione, perché c'è tutta la userland, tutto ciò che va oltre il kernel, che però è ancora molto più importante del kernel, che invece rimane proprietario. Nvidia ha pubblicato il suo driver per il kernel Linux sotto licenza doppia, MIT GPL2. GPL2 è proprio la licenza dello stesso kernel Linux e l'obiettivo, ovviamente, è quello di un giorno di integrare direttamente il nuovo driver ufficiale Nvidia, ma open source, all'interno del kernel Linux ufficiale, quello rilasciato da Linux Torvalds. Quindi rimangono proprietari tutte queste componenti, il driver OpenGL, Vulkan, eccetera, la libreria CUDA, il driver OpenCL, quello per l'elaborazione generica attraverso la GPU. Rimangono proprietari anche i codificatori e decodificatori, il NVDeck ed il NVAnk. Rimane proprietario, ovviamente, il firmware delle schede Nvidia. E così come rimane proprietario il driver che si inserisce all'interno del stesso server grafico X11, XORG. Il discorso non cambia molto neanche con Wayland. Ecco, per farvi capire quanto è complicata la questione, questo è uno schema semplificato di come le varie componenti del sistema operativo parlano tra di loro e con l'hardware. Vedete, tutte queste frecce, tutti questi blocchi ci stanno ad indicare che in realtà il pezzettino all'interno del kernel, quello che qui è indicato con blob, è in realtà solamente l'ultima interfaccia, il punto di arrivo prima dell'hardware, ma non è il centro del sistema. Prima cosa importante, il nuovo driver open source di Nvidia non è il vecchio driver proprietario, è una riscrittura da zero. E questo è importante perché evidentemente all'interno di quel driver c'erano dei segreti industriali che Nvidia non poteva rivelare e quindi queste funzioni da qualche parte andranno a finire, probabilmente rimarranno proprietari all'interno del resto del sistema, dello stack grafico di GNU Linux. Altro punto importante, questo driver è ancora in uno stadio alfa, quindi neanche in beta, è proprio in alfa per quanto riguarda le schede consumer, mentre è considerato stabile e definitivo per quanto riguarda le schede per i data center. Questo è un indizio importante perché vuol dire che questa iniziativa è stata molto probabilmente pensata fondamentalmente per i data center. Una conferma ci arriva da questo, il driver funziona solamente con le schede più recenti, quelle dalla generazione Turing in poi dal 2018, quindi chi ha una scheda più vecchia dovrà continuare ad utilizzare il driver proprietario anche per il kernel. Ovviamente questo nuovo driver non fa ancora parte del kernel mainline, quello rilasciato da Linux Torvalds, quindi questo vuol dire che ogni volta bisognerà compilarlo esattamente come succedeva per il blob proprietario rilasciato fino ad oggi. Altro punto importante per contribuire a questo driver sarà necessario firmare un documento da parte degli sviluppatori volontari e questo potrebbe anche frenare lo sviluppo. È pur sempre possibile comunque fare un fork ovviamente e contribuire a quel fork. Vediamo quali sono i vantaggi possibili, non certi. Gli aggiornamenti saranno più semplici ma questo avverrà solamente quando nel kernel verrà integrato il nuovo driver Nvidia open source. Sarà più facile correggere i bug perché ovviamente questo è l'open source, no? E speriamo anche che ci sia una migliore integrazione con il resto dello stack grafico di GNU Linux in particolare per Wayland. Altro punto importante, sottolineato da Foronyx, è probabile che gli sviluppatori degli attuali driver open source, tutti open source, non solo quello del kernel che si chiamano Nuvo, potranno trarre beneficio dal leggere questo codice e magari integrarlo nel loro driver. Ora la domanda è, ma Nvidia renderà open anche il resto dello stack? Questo probabilmente no, non accadrà nel futuro prevedibile. Quelle parti sono le parti più importanti di tutto lo stack grafico dove effettivamente ci sono i segreti industriali di Nvidia che non vuole lasciarsi sfuggire. No, per ora, gli utenti GNU Linux possono fare affidamento su Intel e AMD. Bene ragazzi, questo era tutto. Alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!